La lista che mi incontra mi chiede ma lei è fascista? Lei è estremista, io ho detto rivendico con orgoglio di essere fascista, che fascista vuol dire cacciare, pedate nel sedere, irregolare e promettere. La nostra storia si potrebbe sintetizzare così, il passato è la memoria e noi tutti abbiamo la memoria. Non crescono cambianti, noi valori che dobbiamo continuare a portare.